Ciao a tutti ragazzi per venerdì in questo nuovissimo video, episodio di Sonic 2 Prima di tutto io vi volevo dire che ogni venerdì, semmai ce la faccio, sono sabato o robe così Uscirà un nuovo episodio di questa serie Quindi, beh, iniziamo Allora, io anche questi livelli qua me li sono un po' studiati con te Io anche se con te sono arrivato a livello 80 o alto Quindi un pochetto lo conosco sto livello Alla fine quasi del livello Comunque sì, un po' le robe le so Perché anche so che è un livello dove c'è l'acqua Però non so perché vado così lentamente Ecco, siamo già morti molto bene Anche se il mio telefono è a due di batteria Sì, due di batteria Allora, innanzitutto io direi di fare sta roba Wah, 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 ci ha ammazzato i tates Vai, tates Direi di fare sta roba qua che anche ci fa guadagnare i ring Vai Guardate in che maestera ci fa guadagnare tutti i ring ecco li abbiamo presi e anche se vi giuro che me gli sono studiati bene 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 con tail molto beh mamma mia pubblica non sono conosciuto ma comunque ditemi se volete episodi sulla ps4 risparmierò dei soldi e farò più lavoretti per comprare il video selezza poi ci sono sti ragnetti no che ora non te io distruggi distruggi ma quante scemo andiamo ok guai a voi se qualcun altro mi scrive che faccio schifo a giocare a sonic che non sono male però questi livelli che anche da un buon molto fastidio pensate se lo scrivesse la voglia se vi insulta ok forse è meglio con un prospetto forse è meglio che non faccio sti discorsi ma dai basta come come hai fatto pulpo beceli dai vaffanculo qua anche uno dei livelli in cui per me si trovano più ring no cos'ho fatto ogni attivo ogni attivo comunque no perché io la maggior parte delle volte delle volte con te io il volavo per fare il livello con l'acqua con sonic non ci sono abituato quindi grazie tate e sui vi avevo detto che in stasera gli smeradini del caso non gli prenderemo perché è difficile e anche se non c'è la faccia spreco solo lì lì c'era una scorciatroia ok qua non bisogna andare tanto veloci lo so sì però qua devo fare così ok senza subito per fermarti fai e raga aspettate che forse qua ci dovrebbero essere delle scuole fettone ci fa solo andare i primi vero aspettiamo il momento esatto per andare qua sotto perché poi l'acqua si alzerà e sta incominciando ad alzarsi what what no devo ricominciare da capo ma vaffan bagno dai vaffan bagno veramente ma vera ma perché viva questo ma veramente vaffan bagno anche la pubblica ok sono arrivati in un altro punto però ho dovuto tagliare perché non posso fare tutto il livello da capo senza tagliare ci metterei troppo tempo ragazzi metterei troppo tempo come perché sono morto che sono morto ma devo ricominciare da capo ma vaffan bagno no vabbè dai il checkpoint vi faccio un po vedere grande grande ma prima non avevo le vite a quattro what the fuck dai tanto è breve la strada poi poi vedremo l'episodio 1684 milioni forse che finalmente batteremo il dottor siamo botnik schifoso gay mamma mia quanto sei guardate quante gay mamma mia salta salta ok se giuro che se muoio qua attempted lo chiamo così 25 5 5 dai devo prendere una boccata da rio ok 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 tutto a posto tutto appoci impegno ciao qui a concetto partono le bestemmie parte il king delle bestemmie no ok parte il bambino il bm delle bestemmie raga come aspettate che mi ero fatto male sbattendo ok qua siamo più vicino il boss abbiamo preso anche un checkpoint molto bene ok raga siamo al boss praticamente se lo dobbiamo qua famo 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 qua i blocchi ok intanto questo qua me lo ricorda abbastanza muori e tu sei morto mamma mia quanto sei inutile te io no 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 ok ce l'ho fatta già da sei minuti wow ok madonna non ce la faremo mai 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 ce la faremo raga non devo morire se muoio dobbiamo rifare tutto da ci sono che con tail potevo volare no raga un ring grande tail che hai preso un ring grande 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 i love you tails i love you ma do muori muori dai dai no 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 ok raga in qualche modo si e taglia non cadere si mamma mia guarda che ti venga a prendere aspetta lo faccio sempre con te aspetta guarda qua guarda che figo aspetta da che figo wow wow figo quando fai così aspetta sono i guarda sono respirato le scarpe di michael jackson avete visto raga fermi tutti non so che ok 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 tutto molto ok 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 no grazie ok ci si ci troviamo in questo livello che il boss ricordo che era un po bastardello qua eh oddio ami meglio ricordo questi anche se tail aveva il potere di volare anche se non avrei mai pensato che ci riusci non odio questo poi c'è poi qua nell'acqua no ci sono anche dei piragna ecco sti qua voi non sapete quanto io diavo con tail perché non mi raccoglievo mai che c'erano e quindi morivo anche se qua una bolla una bolla una bolla una bolla una bolla valla prendere sonic tutto diciamo modo come evviva evviva cade tutto e che bello che bello a negare sott'acqua vero sonic bravo tu non hai rifiati infini dico solo una parola froci no no dai non voglio morire no ma dai ma perché non mi salta dammi una bolla all'ultimo all'ultimo però dai perché io mi ricordavo le scorciatoie mega epic con tail invece con sonic è anche fottuto protagonista no no dammi la bolla dammi la bolla ah giusto che è in acqua acqua no dammi la bolla dammi la bolla dammi la bolla tu l'hai presa tu più di handicappato chi è che ti sopporta oh il riccio più handicappato di sempre sonic dei geog signori evviva e non mi sa che è impossibile ma l'ho presa l'ho presa l'ho presa l'ho presa che cosa ho preso quella l'è una bolla oh l'ho presa ora eh mettiamo una bolla sotto qua devi morire devi morire ma no ecco oh